Oggi di anni me compio 46 tu che mi dici fermati e pensa a quel che ora sei ma a me non piace mettermi a far bilanci piuttosto guardo al futuro mi proietto in avanti guardo a quel che resta da leggere a inventare creare sorrire e conoscere nuovi ragazzi alle superiori perché per la matematica ci siano tanti migliori oi 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 Grazie a tutti. E per il primo compleanno in vita mia, non vedo l'ora che alla scuola si riempia. E anche se oggi è impazzito il clima, è la prima volta che mi sembra essere come vent'anni prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.